L'anno accademico ricomincia e gli studenti fuori sede si trovano puntualmente a doversi confrontare con problemi ormai classici, fra i quali il caro affitti. Rispetto allo scorso anno c'è un aumento del 7,63%, attualmente nelle Marche la spesa media per l'affitto è di 9,88 euro al metro quadro. L'affitto mediamente più caro è a Macerata, quello più conveniente ad Ancona. Ma ciò che pesa di più oggi è la difficoltà nel trovare case disponibili. Quello che noi come officina universitaria abbiamo cercato di proporre è una comunicazione costante sia con l'ente del diritto allo studio che con il comune di Macerata e l'università, che fa comunque da tramite, per riuscire a migliorare sia la situazione dal punto di vista privato, quindi andando a cercare di creare una sorta di piattaforma in cui poter cercare una casa in affitto, ma anche dal punto di vista pubblico, quindi andando a riqualificare delle strutture già presenti a Macerata per poter poi fornire posti letto agli studenti borsisti. Condivido casa con altre tre persone perché è fondamentale per quanto riguarda la divisione delle coste delle bollette e delle utenze. Io per quanto riguarda la mia esperienza mi sono resa conto anche che le persone di sesso maschile fanno molta difficoltà. Ad essere penalizzati nella ricerca dell'alloggio sono infatti soprattutto i maschi. Andare contro il pregiudizio delle camere, delle case affittate soltanto a studentesse e a case miste. Io qui in questi cinque anni a Macerata sono stato in quattro case, questa è la quarta casa, ho avuto anche una certa stabilità rispetto allo studente medio che per motivi che sappiamo cambia alloggio ogni anno. Principalmente mi è stato detto più di una volta che non mi veniva affittato a casa perché ero uno studente maschio, preferivo uno studentesse. Purtroppo questo è un problema che si ripresenta molto spesso insieme alle varie discriminazioni per chi è del sud Italia. Io fortunatamente non rientro in questo ma anche per gli stranieri o per chi magari ha qualche handicap o altro. Anche se l'ente regionale per il diritto allo studio ha aumentato il numero di posti messi a disposizione per gli studenti borsisti, questi non sono sufficienti a coprire tutte le richieste. Bisogna fare domanda in seguito al bando per la borsa di studio. devi avere recusiti di merito e di reddito, quindi recusiti di reddito devi avere un'inspe sotto una certa soglia, invece recusiti di merito devi avere una certa media e quindi tu sei tra virgolette in competizione con i tuoi colleghi di corso e chi ha la media più alta e chi ha il maggior numero di CFU.